Ciao gente, benvenuti in un nuovo video, sono Elna, grazie per seguire il mio canale. Se volete iscrivetevi, se volete potete anche seguirmi su Instagram oppure sul mio canale di Telegram Elna222 che ha aperto a tutti e non ha un soggetto ben definito perché rappresenta me, che sapete che io sono senza confini, nel senso che non sono proprio una persona tanto, tra virgolette, grossa e normale perché sono la classica persona artista che è un po' pazzoide ma non si può essere differenti se si è artisti, ragazzi, è una cosa così. Comunque, quanto è figo questo labello? Cioè è stato un ottimo investimento, l'ho preso scontato. Buoni, buoni, ve li consiglio, li trovate in supermercato, trovatevi, ci sono tanti colori differenti però mi piace perché così non sto consumando i miei rossetti che sapete alcuni rossetti ecco bio costano comunque un po', io ho ancora quelli che ho preso l'anno scorso, gli anni precedenti, li tengo in frigorifero, trucco. Tenete i rossetti in frigorifero, a volte anche gli eyeliner e mascara, specialmente in estate perché altrimenti vi vanno male. Invece in frigorifero anche gli oli corpo vi durano tantissimo, ci sono i oli corpo che sono durati due o tre anni, nuovi, perfetti. Perché si mantengono? Ovviamente se avete dei bambini o persone anziane che a qualsiasi cosa se la ficcono in bocca, state attenti, cioè nel senso che ancora poi uno si mangia un rossetto credendo che fosse un polaretto, cioè occhio. Io devo sempre farvi discorsi in stile materno certe volte, devo sempre fare ramanzine agli altri e io non ho figli ragazzi, incominciamo bene. Bene, allora, oggi voglio fare un video sulla solitudine perché mi stanno scrivendo tantissime persone, infatti a volte faccio le 5 del mattino per rispondere a tutti, ma lo faccio con piacere ragazzi. Io non sono una di quelle persone che a volte vi dirà, anzi che vi dirà, Eh ma è domenica anche per me? Eh ma è ferragosto anche per me? Anch'io c'ho una vita? Sì, ok, tecnicamente sarebbe anche giusto, però penso sempre che quando tu vuoi un ruolo pubblico di responsabilità è come essere un genitore, cioè praticamente non finisce mai. Non è che dici, eh ma oggi è festa, faccio la mazza che voglio? No, perché io sento addosso comunque la responsabilità di cose io sto creando ragazzi. E poi un altro motivo, quando io stavo male anni fa, ho passato degli anni 16-18, uno schifo totale, io me lo ricordo come stavo. Aspettiamo che passa l'ambulanza, ok, scusate l'ambulanza, qua è sempre pieno. Comunque quando io stavo male io mi ricordo perfettamente come mi sentivo, mi ricordo anche quando pensavo a cose non belle, quando pensavo di non voler più esistere. Poi magari vi farò i video su questi argomenti. Io mi ricordo come ci si sente quando poi si è soli, ma sia fisicamente che emotivamente. Non è bello e io non voglio che altre persone sentano questo e non voglio essere come magari la maggioranza che, ragazzi ci sono tante persone che fingono di essere buone, i buonisti. Sapete, vi ho fatto i video buonisti, pacifisti, arcobonisti. Quella è la grande famiglia degli ipocriti e degli incoerenti che mi stanno qua. Sono quelli che ai 4 venti vi gridano tante belle parole, poi sotto sotto se ne strasbattono le palle. Pensano sempre a loro tornaconto principalmente. Questo io non lo condanno in determinati lavori, però quando fai, quando ricopri un ruolo pubblico, secondo me è più una missione. Quindi devi essere pronto anche a dei sacrifici. Il fatto che a volte io rispondo comunque, cioè, tardi, non mi dà fastidio. Per me non c'è differenza tra domenica, ferragosto, natale. A parte che comunque sia, sapete che, vabbè, non è che io ho una vita sociale adesso, cioè nel senso che sto single. Ma anche se fossi fidanzata o sposata o in famiglia, comunque sia, io ho scelto un determinato ruolo e devo andare fino in fondo. Perché l'ho scelto io. Poi certo, non è che una persona può salvare tutti, nel senso che io mi posso sostituire alla vita degli altri. No. Però a volte, quando c'è una persona che dico, non so, un esempio, le 3 di notte sto in crisi. Sapete, le 3 di notte è uno degli orari più difficili che esistono. Perché è l'orario dove, se stai male, non vuoi chiamare nessuno, hai paura di disturbare gli altri. A volte stai solo perché sono le 3 di notte. È un orario molto difficile. Voi non potete immaginare quanta gente mi ha scritto a volte in quegli orari perché è in crisi. E a volte bastano 2-3 messaggi e già gli dai sollievo. Rispondere a una persona, eh ma è ferragosto, è vita anche per me, è ferragosto anche per me, è fare magari così. E poi magari c'è gente che va a farsi l'aperitivo, va a farsi l'aperitivo con lo zoccolone di turno, ragazzi. Dimostra che cosa? Dimostra di essere insensibile. E me ne freghiste. Oppure quello o quella che dicono, eh ma è domenica anche per me? Ma ragazzi, ripeto, alcuni ruoli è un po' come fare un medico. Non è che un medico dice, eh ma sai, è Natale oggi, se tu stai male ti attacchi a sta cippa. No, perché è Natale. No, ragazzi, no. Infatti, pronti soccorsi, le emergenze, oppure anche chi fa i vigili del fuoco. Cioè, ci sono alcuni lavori dove l'orario, il giorno non esistono. E io penso che quando ricopri un ruolo pubblico dove cominci a diventare o un influencer, o comunque una persona che vuole dare una mano agli altri, tu gli orari, i giorni non ce li devi più avere. Ma non è che ti deve pesare, è una cosa che ti deve venire spontanea. Se non ti viene spontanea, non stai facendo il ruolo che devi fare, insomma. Non è il tuo. Lo stai facendo in modo forzato. Stai fingendo. E tanta gente finge, ragazzi. Voi non potete immaginare quanta gente ha le maschere. Non potete neanche immaginarlo, ma io lo so. Ma io lo so. Io invece non sono così, ragazzi. Quindi potete tranquillamente scrivermi. Poi, se non vi rispondo subito, non pensate che io me ne frego. A volte ho le cuffie, perché sto facendo delle cose e non vi sento, ma voi aspettate un po', riscrivetemi dopo. Oppure, se non vi rispondo subito, è perché a volte ho 999 notifiche e ci metto un po' a rispondere a tutti. Però poi vi rispondo. Se è una cosa importante, insistete. Ovviamente non mi scrivete le tre di notte. Oh mio Dio, soffro perché non ho una Ferrari. Perché in quel caso vi mando a fare... Ovviamente. Ovvio. Però mi è capitato molte volte di consolare o di aiutare persone che erano in crisi. A volte ci sono dei momenti proprio di crisi, ragazzi, dove non vedi più né via di uscita. E pensi a cose molto brutte. Io sono contenta in quel caso di aver dato... Cioè, di aver preso una persona così e averlo salvato. E sono comunque segni. Sono comunque segni e sono importanti. Comunque sì, tanta gente sola, a volte non sono soli, che stanno soli. C'è gente che ha famiglie, che va a giri di conoscenze, che lavora, che ha colleghi. Però ragazzi sono veramente soli. Poi si aggiunge un'altra categoria che mi sta tanto scrivendo. Ragazzi, sono le persone che vengono lasciate. Oppure si prendono cantonate, allucinanti, in relazioni sentimentali. E si trovano sole. Oppure, peggio, sono in una relazione e si sentono soli. Che è quello, ragazzi, vi capisco benissimo. Ho capito cosa intendete. E rinnovo comunque quello che vi ho sempre detto nei video precedenti. Potete anche provare a vedere le relazioni a catena. Ma se non trovate quella persona giusta, è ovvio che fallisce. Ma è ovvio che state male. Ma è ovvio che non funziona. Perché non avete la stessa energia, la stessa anima e la stessa vibrazione. Quindi, prima o poi, non funziona. Adesso vi dico una cosa. Quando c'è una relazione, iniziate una relazione, state attenti. Se è un periodo che voi state veramente giù di tono, occhio. Perché è il momento che attirate i manipolatori o le manipolatrici. Categoria disgustosa di individui che sanno benissimo dove andare a colpire il vostro punto debole. Vi studiano per un po', vi riempiono di finti complimenti patetici. Come sei figo con quel vestito! Ok. Cioè, sapete le classiche leccate? Non so nemmeno come dirvelo. Ci sta, eh, fare un complimento a una persona, per carità. Ma a quelli che si assillano ogni cinque minuti. Occhio. E love bombing, tecnica. Ci sono quelli che poi usano conoscenti, amici. Certe volte usano i bambini figli, ragazzi. Mi è capitato di leggere persone che mi dicono Eh, sai, lui mi mandava la figlia bambina a dirmi tutte cose. Io mi intenerivo. Ragazzi, ti ha manipolato. Ovvio. Lo so, fa schifo. Ha usato pure la bambina per dirti cose. Ci hai creduto perché eri in un momento molto fragile. E lui lo sapeva. O lei, eh. Perché adesso parlo in generale. Può essere il manipolatore, può essere uomo o donna. Ma solitamente ottiene quello che vuole ottenere. Cosa succede, ragazzi, nelle finte relazioni? Che la vostra mente razionale combatte perché pensa che sia giusto soffrire in questa vita, valle di lacrime, poi non mi ricapita più, ho paura di rimanere solo, sola. Oh mio Dio, devo accontentarmi. Dio mio, se trovo quello che ha insegnato la gente di puntare in basso, di accontentarsi, opprire a schiaffi giorno e notte perché... No, accontentarsi una mazza non esiste. Non esiste. Comunque sia, vi imboniscono, no? E quindi la mente viene annebbiata. Ma ricordatevi che il vostro spirito, che non è deficiente, se ne accorge subito, è state male. State male. Perché il vostro spirito sa benissimo che quella relazione non è quella che voi dovete avere. Perché non è la persona che fa per voi. È molto semplice. Quindi c'è questo combattimento tra ragione e cuore. E infatti si è in conflitto. Infatti mi scrivono tantissime persone così. con questa sensazione e mi dicono Cosa devo fare? Ciccio, te lo devo dire io cosa devi fare. Ragazzi, io ti posso aiutare, ti posso ascoltare, ti posso consolare la decisione tua. Quello che ti posso dire è di non... Non sminuirti. Non pensare sempre che non ti può andare meglio. Questo è sbagliato. E se una cosa non ti fa felice, non è giusto. Ricordatevi sempre che i sentimenti veri vi rendono felici, altrimenti sono falsi. È una cosa così banale. Certe volte le cose sono così banali. Ma se una cosa ti rende triste, È sbagliata. È semplice. È sbagliata. È sbagliata. Poi ci sono persone che dicono Ma io preferisco soffrire piuttosto che rimanere in solitudine perché vedono soltanto determinati aspetti delle relazioni. C'è chi vede la parte fisica e quindi dice Eh, però se poi lascio quella persona non salto più la cavallina. Perché devo fare questi esempi? Eh, se non mi censura YouTube. Eh, cavolo. Io invece voglio saltare la cavallina. Quindi tante persone poi vanno a vedere la parte proprio terra a terra, no? E quindi magari stanno con quella persona esclusivamente a un livello fisico. A quel punto vai a pagamento. Cioè, te lo dico io. Ti giuro che è meglio. Io non sono una persona moralista, ragazzi. Non sarò mai una persona moralista. No. Assolutamente. Certo, sarebbe più saggio evitare di essere persone molto legate all'aspetto materiale della vita. Però non siamo tutti uguali. Quindi mi stanno scrivendo molte persone principalmente per questo. Mi chiedono, sai, il nipote di cosa soffre? Perché ha scoperto che poi alla fine quella persona non lo amava ma perché già pensava un'altra, lo tradiva. Ragazzi, se già all'inizio le cose non vanno andranno sempre peggio. Se già avete la sensazione che non... no. Ah, occhio alle persone che vi giurano amore eterno dopo che le conoscete da un mese e mezzo e già sparano ti amo, ti amo. Ragazzi, manipolazione di livello mediocre. Veramente siamo a un livello basso qui. Siamo al love bombing di periferia. non so nemmeno come dirvelo di quale metafora. Comunque, pateticamente, mi fanno ridere. Non funziona così. Guardatevi Frozen, il cartone animato. vi ricordate Elsa quando Bacchetta Anna che voleva sposarsi il fantastico principe, non mi ricordo il nome, comunque il fantastico principe dopo il primo giorno che l'aveva conosciuto perché era il principe azzurro e la sorella gli dice ma stai deficiente? Cioè, ti vuoi sposare? Il principe, cioè, questo lo conosci da un giorno e secondo te già no, non funziona così, ragazzi. Comunque, molta gente fa questo errore, cioè, nel senso che le persone le dovete conoscere, le dovete conoscere bene e non vi fate ingannare da le tecniche manipolatorie di livelli bassi. Dio, non so nemmeno come spiegarvelo in altre parole. Cioè, comunque è ovvio che ci sia una truffa in atto. Poi mi dispiace perché poi voi ci state male, piangete, vedete tutto nero, vi sentite prigionieri in relazioni perché poi ci state insieme però dentro di voi il vostro spirito vi grida che stai facendo deficiente, hai sbagliato. Però voi andate avanti e poi le cose vanno male. Purtroppo o per fortuna in queste cose ci vuole un'altra un altro approccio e poi penso sempre che quando è un momento negativo occhio perché attirate gli avvoltoi attirate gli avvoltoi lavorate molto di più su su voi stessi questo è molto importante questo è molto importante comunque volevo fare un po' di video su solitudine in generale oggi mi ho affrontato la solitudine di coppia o comunque la solitudine che può prendere nel cuore della notte mi dispiace di vedere tante persone a volte anche molto giovani mi scrivono anche persone molto giovani molte ragazze che a volte mi dicono tutta l'estate l'ho passata da sola non ho nessuno con cui andare a mangiare la pizza ragazze mi dispiace tanto a parte che anch'io a volte non ho persone con cui fare cose vi ho detto non ho mai festeggiato un ferragosto in vita mia però certo ho un'altra età poi sono una persona che per mia fortuna ho un ego sconfinato il mio ego da leone il mio ego da torrascendente leone ragazzi che mi rende molto forte anche quando veramente le cose sono dure quella è una mia caratteristica soffortunata non tutti sono così però se io posso dare una mano e dare un po' di energia la do sempre ovviamente l'energia che bisogna sempre precisare poi niente certo anche a me piacerebbe trovare la mia anima gemella ragazzi anzi la mia fiamma gemella precisiamo le parole perché se no l'universo poi vi manda un'altra cosa l'altro giorno ho letto che la vostra fiamma gemella è legata a voi con un filo rosso invisibile cioè è rosso però non si vede tramite il dito mignolo dell'anulare cioè scusate il dito mignolo della mano sinistra anulare non c'entra niente quindi questo quindi io stavo facendo così con una canna da presa io facevo qualche detto vabbè allora lo tiro cioè lo tiro cioè io sono molto fatalista in queste cose ragazzi sono molto fatalista ci credo tanto nel destino nell'universo e preferisco la solitudine alla falsità io sono fatta così però vedo che anche tanta gente che poi dice no ma io preferisco stare lo stesso con qualcuno piacerebbe stare solo non la vedo poi così felice comunque devo essere sincera niente vi saluto perché altrimenti faccio video troppo lunghi perché ogni volta voglio fare un video di 15 minuti poi gli sparo 25 minuti scusate ragazzi a me piace parlare così vorrei farvi molti più video poi era da tanto tempo che non facevo video su youtube vi saluto mi trovate comunque su telegram e se posso darvi una mano anche solo con due parole lo faccio sempre cercate di essere forti e coerenti con il vostro cuore altrimenti è inevitabile che beccherete sonore fregature e non voglio cioè comunque mi dispiace ci vediamo al prossimo video ciao ciao ciao